buongiorno a tutti l'argomento di oggi i semi sì l'ultima lezione abbiamo visto il fiore la cui funzione principale è quella di conservare e proteggere gli organi sessuali della pianta ossia il pistillo e gli stami che a loro volta generano le cellule sessuali la cellula uovo e il polline nel momento in cui si è avvenuta l'impollinazione cioè il trasporto del polline sul pistillo per poter incontrare la cellula uovo si ha la fecondazione cioè la fusione di queste due cellule maschile e femminile fino alla comparsa del seme che funzione ha il seme dunque il seme oltre che derivare dalla fecondazione rappresenta il nuovo organismo in questo caso la nuova pianta geneticamente diversa da entrambi i genitori dei quali conserva però metà del patrimonio ereditario che viene ricombinato questo soprattutto se la focondazione è stata incrociata cioè è avvenuta tra fiori di piante diverse avevamo detto che questo incrocio assicura la variabilità il cambiamento e quindi assicura un miglior adattamento ad eventuali cambiamenti ambientali le dimensioni le forme dei semi sono variabilissime ci sono semi come quelle delle orchidee appena visibili ad occhio nudo pensate che in un grammo si possono contare fino a un milione e duecentocinquantamila semi altri invece giganteschi come quelli di alcune specie di piante di palme delle 6 shell i cui semi possono addirittura arrivare a pesare oltre 20 chili quello che vedete rappresentato qui è il seme di un fagiolo molto molto facilmente reperibile e di dimensioni tali da essere osservabili con facilità quali le parti di un seme allora partendo dall'esterno quella che noi comunemente chiameremo buccia in realtà è detta tegumento è ancora una volta è una pellicola che protegge il seme all'interno il fagiolo possiede due porzioni due cotiledoni ed è questa una parte molto importante una riserva di nutrimento per la piccola piantina che aiuterà l'embrione a crescere fino a quando grazie allo sviluppo delle foglioline la nuova piantina diventerà autosufficiente autotrofa ma nelle prime fasi di sviluppo deve sfruttare il contenuto dei cotiledoni che noi tra l'altro utilizziamo come alimento i cotiledoni sono formati dall'endosperma e poi dal piccolo embrione che se osservato bene è già una piantina in miniatura con una radichetta e con due prime foglioline da questa parte invece è rappresentato il seme del mais che anziché essere composto oltre che dal tegumento da due cotiledoni da due porzioni facilmente separabili è costituito da un'unica porzione che noi non riusciamo a dividere per questo viene detto il mais mono che vuol dire un solo cotiledone, un monocotiledone poi vedete che la struttura è molto molto simile nel momento in cui il seme poi riesce a trovare un luogo adatto inizierà a germogliare, avrà luogo la germinazione, lo sviluppo della vera piccola nuova pianta dicevo che perché avvenga la germinazione ci devono essere delle condizioni ambientali adatte un giusto grado di umidità, una temperatura adeguata la presenza di ossigeno, cioè il terreno deve essere adeguatamente arieggiato a questo punto il seme germoglia le prime strutture che fuoriescono dai cotiledoni sono le radichette, le piccole radici caratterizzate da un geotropismo positivo cioè un tropismo, un lento movimento verso il geo, verso la terra per cui è detto positivo perché è un movimento lento verso la terra a poco a poco poi compariranno le prime foglioline e il fusto il fusto in particolare avrà un geotropismo negativo un movimento contrario rispetto alla terra infatti si muoverà verso l'alto nel momento in cui le foglioline saranno ben sviluppate che cosa sarà possibile osservare? che i cotiledoni saranno completamente svuotati perché saranno stati assorbiti dalla piantina nelle prime fasi di sviluppo la piantina si sarà nutrita dell'amido cioè dello zucchero di riserva contenuto in queste due porzioni queste porzioni rinsecchiranno e si staccheranno e la piantina diventerà completamente autotrofa in grado cioè di crearsi il cibo da sé c'è ancora da dire che anche le foglie sono dotate di un tropismo cioè di un movimento lento ma che esiste il loro movimento è un egliotropismo positivo eglio vuol dire o meglio foto anche tropismo positivo foto vuol dire luce quindi le foglioline avranno un movimento rivolto sempre verso la luce per cui talvolta le piante crescono un po' storte perché il fusto si dirige là dove c'è maggiore luce per quanto riguarda quindi la nascita della nuova vita abbiamo visto i diversi stadi poi compariranno i fiori i fiori si feconderanno un nuovo seme spesso protetto da un frutto i frutti servono per proteggere al loro interno i semi nel caso particolare della pianta del fagiolo il frutto è chiamato baccello è una sorta di astuccio che contiene al suo interno numerosi semi infatti il fagiolo è una leguminosa di cui noi mangiamo i semi ma anche i fagiolini sono delle leguminose di cui mangiamo l'intero baccello contenente i semi e per questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione vi do l'appuntamento alla prossima lezione grazie